Circa 2.700 aggressioni a pubblici ufficiali e quindi operatori forze dell'ordine. Parliamo di 7 aggressioni a settimana, quindi un'aggressione ogni tre ore e mezzo. Quindi onestamente riteniamo opportuno che i dicastri competenti possano prendere le misure previste atte appunto a sensibilizzare la sicurezza dell'operatore affinché possa lavorare in maniera serena e assicurare al contempo quindi la sicurezza del cittadino. Così Nicola Magno, segretario regionale Puglia del nuovo sindacato Carabinieri. Garantire la massima sicurezza agli operatori delle forze dell'ordine. È stato questo il tema al centro del convegno organizzato dal nuovo sindacato Carabinieri di Puglia. L'evento è stato ospitato nell'aula consigliare della città metropolitana di Bari alla presenza tra gli altri del sindaco Antonio De Caro e della senatrice 5 Stelle Bruna Piarulli. La sicurezza è un bene da condividere. Le forze dell'ordine sono impegnate in prima linea quindi i carabinieri come le altre forze dell'ordine devono avere gli strumenti e i mezzi per far sì che questa sicurezza poi possa essere raggiunta. Per cui maggiori risorse economiche e investimenti sia per quanto riguarda le assunzioni e soprattutto nel sud perché bisogna garantire i pensionamenti. Con la presenza del sindaco De Caro per una collaborazione diciamo e un modello di sicurezza partecipata attraverso sia i territori rappresentati dai comuni sia le istituzioni centrali che detengono il potere esclusivo della politica della sicurezza nazionale. Credo che la percezione di sicurezza sia uno degli elementi importanti per la vita di una comunità e grazie alla presenza delle forze dell'ordine, grazie anche all'utilizzo di soluzioni innovative come il telecontrollo, l'utilizzo dei sistemi di videoserveglianza posso dire che nella nostra città, nella nostra comunità per fortuna le forze dell'ordine ci accompagnano e ci proteggono. Grazie.